Il giornalerà di ViviCentro Network Controlli della Guardia Costiera sui trasporti e nei mercati ittici al dettaglio nell'ambito dell'operazione Mercato Globale. Nell'ambito delle verifiche connesse all'operazione complessa Mercato Globale, sono stati eseguite specifiche attività ispettive presso i principali mercati ittici delle aree metropolitane delle principali città italiane, finalizzate al rispetto delle norme concernenti le informazioni minime da fornire al consumatore finale attraverso l'etichettatura. Le verifiche hanno riguardato inoltre aspetti connessi alla tracciabilità del pescato, eventuali frodi in commercio e, congiuntamente ai servizi sanitari locale, le verifiche sulle condizioni igieniche e di sicurezza alimentare. L'operazione ha coinvolto tutte le principali città nazionali passando da Reggio Calabria a Trieste, da Genova a Mazzara del Vallo, da Palermo a Napoli a Cagliari in una desolante certificazione del fatto che l'unico collante che rende veramente unita e uguale l'Italia è solo il malaffare. Roma Totale sanzioni 36.500 euro Prodotto ittico sequestrato 641 chili e due casi di frode nell'esercizio del commercio Sostituzione di specie tombarello per tonno rosso e vendita di prodotto decongelato per fresco, Milano Totale sanzioni 20.000 euro Prodotto ittico sequestrato euro circa 6.170 chili Durante i controlli presso i ristoranti etnici sono stati ritrovati prodotti ittici diversi da quelli nostrani, provenienti per lo più dal sud-est asiatico, privi di tracciabilità. Tra questi la panopea, meglio conosciuta come vongola dalla proboscide, Oloturie ed il famoso granchio cinese, Pescara. Durante un'attività congiunta con personale della polizia stradale, intercettato un camion con a bordo 600 kg di cozze riportanti sull'etichetta una data di confezionamento successiva a quella dell'accertamento. Il prodotto ittico, proveniente dalla Puglia, era destinato ai mercati laziali. I responsabili sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per frode nell'esercizio del commercio. Perugia, il nucleo ispettivo di Ancona, presso un deposito dell'entroterra della provincia di Perugia, poneva in sequestro circa 5.000 kg di prodotti ittici congelati privi di tracciabilità e, molti dei quali, oltre la data di scadenza, nella stessa attività si rilevava l'inconsueta conservazione di alcuni esemplari diastici morti rinvenuti nella vasca di conservazione insieme ad esemplari vivi. Nel corso di un'altra attività posta in essere nello stesso entroterra Umbro, gli ispettori Pesca, congiuntamente al personale sanitario intervenuto, ha provveduto alla chiusura di un esercizio commerciale di ristorazione etnica, cinese, rinvenuto in pessime condizioni sanitarie. Modugno, Bari. Qui sono state accertate le seguenti infrazioni con relativo sequestro di 230 molluschi cefalopodi congelati, polpi e seppie, completamente sprovvisti di etichettatura 430 poioselene setapilnis, verosimilmente pesce luna, e kingfish scombrides e pipi, verosimilmente maccarello reale Tutto allo stato congelato e prodotto non ricompreso nell'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale Di cui al decreto ministeriale 1905, del 22 settembre 2017, 340 sogliole congelate, origine mauritania, sprovviste di denominazione commerciale e scientifica Grazie a tutti